suona la sveglia a tv 2000 alle 7 e 33 di questo giovedì 12 ottobre un buongiorno a voi che ci seguite a casa un buongiorno al nostro pubblico più sveglio che mai buongiorno giacomo buongiorno buongiorno al pubblico buongiorno a tutti voi che seguite da casa ma voi state facendo colazione giacomo tu come fai colazione la mattina noi innanzitutto facciamo colazione un po' presto la mattina però mi mangio lo yogurt con molte altre cose poi una fetta di pane tostato col burro d'arachidi sai cosa ti dico il pane non può mai mancare che sia dolce o che sia salata la colazione il pane deve esserci sempre stamattina io sento già un profumino perché abbiamo con noi federico stocchi panificatore da quattro generazioni che ci ha portato tantissimo pane buongiorno buongiorno a voi grazie per l'invito come al solito grazie a te grazie a te del pane che ci hai portato e di quello che ci preparerai quest'oggi perché che cosa realizzerai allora oggi siccome mi piace includere anche noi i nostri ascoltatori che potrebbero essere anche ipotetici clienti che vengono a trovarci al panificio mi piacerebbe raccontare il pane al farro il farro è un cereale importantissimo per la nostra alimentazione perché è stato il primo cereale allevato e coltivato dall'uomo da ben 12 mila anni fa non stiamo parlando proprio di poco tempo fa e è un cereale che ha degli apporti nutrienti veramente molto importanti per la nostra alimentazione quello che abbiamo scelto oggi perché il farro ha tre varietà in particolare cioè il monococco bicocco e spelta lo spelta è quello più simile alla farina odierna e anche detto fra di noi il più semplice tra virgolette da utilizzare per quello che può essere la panificazione casalinga si presenta così è abbastanza chiaro sembra la farina poi se fate caso c'è l'assonanza farina farro in latino si diceva farrum quindi poi è nato il termine farina cioè è nato da farro quindi è nato dal farro non lo sapevo neanch'io no neanch'io è nato dal farro e si presenta abbastanza chiaro con delle ombreggiature abbastanza nocciolate quindi è un po' più scuro della farina bianca classica Federico ma ci fai subito vedere vogliamo noi vogliamo vederti subito con le mani in pasta allora io qui ho pesato dell'acqua e la metodologia è abbastanza semplice quella che voglio presentare non so se si riesce a vedere il lievito di birra è veramente poco stiamo parlando di un grammo mezzo chilo di farina pochissimo davvero pochissimo il lievito di birra voglio spendere una leggera nota nei suoi confronti non è assolutamente un prodotto chimico un prodotto che fa male è un prodotto naturale quindi lo possiamo usare senza nessun tipo di importante si aggiungere il giusto tempo alla farina per poter fermentare che sia farro che sia farina di grano duro di grano tenero di segale metto tutta l'acqua sono circa 300 grammi d'acqua 250 grammi d'acqua poi possiamo variare in base alla tipo di oligia di farro che troviamo in commercio che acquistiamo per casa nostra e mezzo chilo di farina 300 barra 250 grammi d'acqua ripeto sempre in base alla farina e 10 grammi di sale mettiamo tutto insieme compreso il lievito non succede niente se il lievito e il sale vanno a contatto il lievito non viene ucciso dal sale tutti e due vogliono l'acqua ma in questo caso gliene abbiamo aggiunta altra Federico mentre inizia a lavorare io volevo chiamare ci abbiamo in collegamento credo sia già pronto luca cesari storico di gastronomia buongiorno luca buongiorno a voi buongiorno a tutti luca stiamo preparando del pane qui c'è un buonissimo profumo di pane luca ma qual è il primo pane della storia è difficile dire quali sia il primo pane della storia sicuramente ha una storia molto molto antica come come ricordava il come ricordavate studio il faro viene coltivato da 12 mila anni almeno e sicuramente i modi di utilizzare i cereali sono stati diversi ad esempio il classico modo per mangiare i cereali dei romani almeno fino al secondo secolo dopo avanti cristo quando si impone il pane era in forma di pollenta quindi la pulse dei dei romani ed era proprio acqua farina fatti fatti cuocere veniva questa questa zuppa questa questa polenta cui si potevano aggiungere altre cose c'era famosa la pulfra bacia con le fave un connubio tra i legumi e i cereali che si manterrà ancora nelle polente del medio revo poi queste queste polentine veramente questi impasti comunque di di acqua e farina come quelli che stiamo vedendo che sta facendo che state facendo in studio vengono messi o sulle piastre quindi su un semplicemente una piasta calda per ottenere una sfoglia di pane abbastanza sottile che non richiedeva nemmeno lievitazione probabilmente oppure all'interno dei dei forni di panni antichi si ricordano già quelli egizi quelli quelli greci e ovviamente anche in epoca umana luca rimani con noi un attimo qua stiamo parlando di panni egizi quindi siamo affondiamo veramente le radici di questa storia nel nel tempo lontano questo non è egizio perché insomma è un pane molto contemporaneo quello che sta realizzando federico in questo momento ho visto che hai aggiunto acqua che cosa stai facendo si ho aggiunto acqua perché come vi dicevo a seconda della farina che troviamo in commercio c'è sempre l'evenienza si possa aggiungere l'acqua qui io sto facendo un metodo che si chiama comunemente autolisi cioè che cosa succede le glutine sono un miscuglio di proteine che si legano grazie all'acqua per agevolare il nostro lavoro non avendo un impastatrice a casa se vogliamo farlo a mano comunque anche se lo facessimo con una planetaria sarebbe sempre meglio dare il giusto tempo di riposo le proteine che formano il glutine quindi in questo caso io ho aggiunto questa parte di acqua si forma un impasto grezzo è abbastanza non è non è bello da vedere in questo momento perché non è ancora avvenuta la formazione del glutine lasciamo sì che questo glutine e l'acqua presente che abbiamo messo in questo momento si uniscano spontaneamente dando i giusti tempi perché questa è una cosa fondamentale che ci vuole è sempre la grande pazienza poi otterremo dimestichezza e otterremo diciamo una manovratà un po più semplice rispetto a questo tipo di lavorazione però ci vuole grande pazienza uno lo può fare magari prima di andare a cena e dare giusti tempi di riposo al pane è fondamentale in questo caso per questo tipo di lavorazione che l'ho fatta adesso insieme a voi avete visto è stato un brevissimo tempo questo tipo di impasto che si chiama autolisi lo lasciamo riposare per 10 minuti poi ci vediamo dopo vi faccio vedere abbiamo il tempo durante la trasmissione vi faccio vedere come finire di manipolarlo prima di fargli fare la lievitazione notturna e allora federico mentre il pane riposa io volevo richiedere a luca luca ci senti ti volevamo chiedere noi federico sta usando il lievito di birra ma si parla tanto di lievito di birra lievito madre ci puoi aiutare a fare un po di chiarezza su qual è il lievito che dobbiamo usare è vero che fa bene ce n'è uno che fa meglio facci aiutaci un po capire allora non ce n'è uno che fa meglio uno che fa peggio diciamolo come va detto sicuramente quello più antico è il lievito madre che si faceva facendo in acidire fondamentalmente l'impasto di acqua e farina e c'è questa pasta acida che prende dei batteri che ci sono dei funghi che ci sono nell'atmosfera e diventa un lievito e quindi fa crescere il pane come siamo abituati negli ultimi anni c'è stata una grandissima rinascita di questo tipo di lievitazioni che da una struttura un profumo delle caratteristiche molto particolari al pane questo sicuramente è stato il lievito più antico il lievito di birra è stato utilizzato soprattutto all'inizio si parla nel seicento le pasticcerie viennesi e le pasticcerie francesi soprattutto in ambito di pasticceria perché trava delle lievitazioni più abbondanti con un'alvellatura più fine quindi erano molto più più comode e molto più belle in pasticceria per questo motivo poi dopo si è espanso anche nella panetteria normale ovviamente in italia ad esempio non facendo la birra perché è fondamentale per avere il lievito di birra per la fabbricazione di birra non avendo una grande tradizione di birra il lievito di birra è arrivato un po dopo però comunque già nel nel settecento si sa che si usa il lievito di birra luca ci interrompiamo un attimo ci mettiamo a riposare a lievitare a riposare appunto con la copertina come il pane di federico andiamo in pubblicità ci rivediamo dopo la pubblicità non solo per continuare il pane ma anche per andare a conoscere il calzolaio dei papi a fra poco bentornati a di buon mattino e noi ci siamo spostati perché vogliamo dare il benvenuto e buongiorno ad antonio e daniel arellano buongiorno vedo antonio che sta già lavorando antonio il calzolaio dei papi antonio ma cosa vuol dire qual è l'emozione che si prova nel realizzare delle scarpe che poi indossa un papa e mi trovo una emozione bellissima e non è una cosa che capita tutti i giorni si è una emozione che non capita tutti i giorni però è fantastico noi stiamo parlando di papa benedetto sedicesimo e parliamo anche di giovanni paolo secondo ed è stato un incontro diciamo che in qualche modo si è formato facendo un passo a ritroso voi tu vieni dal perù da un luogo da una città che adesso tu ci dici qual è che è proprio in centro delle scarpe vero si è trucchio è proprio la città delle scarpe ci diceva antonio la capitale della primavera tu arrivi qua in italia comincia l'avventura delle scarpe anche qua in italia a roma nella città eterna a due passi da san pietro perché apri una bottega a borgopio e com'è che a un certo punto un papa ha busso alla porta o chi per lui per chiederti le scarpe prima io ho aperto nel 98 e piano piano la gente cominciava a conoscermi venivano suori preti cardinali venivano piano piano e vanno conoscendomi perché io facevo scarpe oltre alla scarpe facevo riparazione e poco a poco mi hanno conosciuto e hanno cominciato a venire passaparola e alla fine ho cominciato a lavorare con tanti della chiesa e io ero contento arrivato del tempo che in che quando veniva pure rassi lo conosceva un cliente era meraviglioso perché lui era una persona molto educata tranquilla non parlava tanto arrivava e poi come tutti i clienti quasi perché io quando lavoro lavoro veloce sto con bel saluto buongiorno dopo vado subito al lavoro e così quella esperienza che è stata dopo quando ha passato quando è diventato papà l'ho visto di oddio il mio cliente non è detto ero emozionato era un'emozione grandissima che è uscito ho andato al bar presso proprio parlato lì e così è andata Daniel mentre papà sta lavorando io ti volevo chiedere ma tu sei cresciuto immagino guardando papà che realizzava le scarpe ma quando tu quando hai realizzato la tua prima scarpa quando hai iniziato ad aiutarlo davvero io sono cresciuto proprio con mio padre nella bottega e la mia prima scarpa che lui mi ha insegnato a realizzare a 11 anni a 11 anni nella sua bottega ogni tanto che andavo lui mi diceva dai inizia a tagliare la tomaia inizia proprio quella che lui sta tirando questa qui questa si chiama tomaia sì questa è la tomaia proprio la parte esterna della pelle sopra della scarpa e mi inizia a tagliare inizia a cucire poi mi faceva conoscere la forma a imparare a conoscere le forme e piano piano anche io cominciavo a montare a preparare le è stata una bella soddisfazione la mia prima scarpa è stata a 11 anni che ho realizzato stiamo parlando non solo c'è da una parte di incontro con personaggi come i papi quindi anche siamo l'emozione tra l'altro la tomaia è quella che sta lavorando adesso è proprio quella è di benedetto sedicesimo ma è anche una trasmissione di un sapere di un sapere antico di vestieri di tipo artigiano esatto artigianale non così scontati no 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 è una passione fare le scarpe poi è una bella passione perché quando realizzi una scarpa per un cliente cioè sai che questa scarpa sarà proprio solo per una persona non è una scarpa industriale per tante cioè per una singola persona quindi tu quando parli con un cliente conosci questa persona e sulla sua quotidianità quotidianità e quindi realizzi questa scarpa per lui in base a quello che lui e le sue esigenze quello che farà e quanto ci vuole per realizzare un paio di scarpe allora noi ci prendiamo un mese e mezzo un mese e mezzo per realizzare una scarpa per un cliente ci vuole raccontare proprio quali sono gli attrezzi del lavoro gli attrezzi sono semplici una pinza un martello una tronchesina e la più importante è questa è la forma e la tomaia questa serve proprio per tirare la vedi per cominciare a montare la tomaia per tirare vedi come fai con i chiodi punto per punto comincia a tirare a tirare a formare la scarpa sulla forma proprio con le mani lui mentre monta sente a carezza il tiraggio della pelle Antonio ma quante scarpe avrei realizzato? Tantissime tante tante capirai da piccolo che ha cominciato il lavoro fino ad adesso una marea lo fai in autonomia ormai lo puoi fare anche occhi chiusi proprio c'è la pratica è che la mia passione è montare le scarpe io preferisco fare più scarpe che riparazione però come si lavora di tutte e due è meglio anche perché tu realizzi degli oggetti che poi sono fatti proprio per una persona unica quindi realizzati ad hoc si come vuole il cliente e che poi viaggia in tutto il mondo si come vuole il cliente quando viene il cliente mi serve una scarpa così più a punta però questo modello questo colore andare a cercare il colore della pelle e farlo e dopo loro sono contenti perché te scrivono e poi dopo passano gli anni e dopo tornano a me fai due paia ok guarda a volte tanti clienti per dire diciotto anni fa che l'ho fatto le scarpe e tornano e dico manco lo ricordo delle persone e mi dice no tu mi hai fatto la sua misura e tu ce l'hai la mia forma capirai diciotto anni e ce l'ho la forma alla fine dell'ecotà lo prendo l'esampo il piede subito del piede la misura e lo realizo e vanno contenti così e queste sono le mie scarpe che fanno vedi tutti rifinitura qualsiasi colore che il cliente ti chiede che poi abbiamo visto poco fa è passata l'immagine delle famose scarpe rosse di Papamento XVI sì quelle sono opera tua le scarpe rosse certo le scarpe rosse le ho disegnato tre paia le ho disegnato a lui oltre che le ciabate le pantufle le pantufle ho fatto delle pantufle come nero marrone Daniel dicevi anche tu hai incontrato il Papa Benedetto XVI ho avuto la fortuna di incontrarlo grazie anche insomma perché era un cliente e che emozione hai provato? ero veramente contento più che altro lui poi ci ha trasmesso una bellissima emozione perché è una persona carismatica molto buona una bella persona cioè quando lo conosci veramente in persona ti trasmette da una buona proprio ti trasmette una bella sensazione oltretutto nell'incontro perché tu hai realizzato Antonio anche un libro che è questo qua il calzolaio del Papa e avete avuto modo di incontrarvi e aprendolo c'è proprio l'autografo la firma di Benedetto lì hai scritto il mio calzolaio il calzolaio del Papa anche in questo caso cioè essere proprio definiti dal Papa stesso il calzolaio del Papa e con le sue caricature e gli è piaciuto anche molto tra l'altro lui è un grande piace leggere è un grande insomma scrittore è una grande persona figurati che per i miei cinquant'anni io non manco me l'aspettavo e arriva una macchina si ferma davanti a me alle 10 del mattino a quell'ora anche nella bottega nella bottega e scende e mi dice eccole Arellano si le dico sono io questo è il tema del Santo Padre era una cosa dico dai stai scherzando no io non scherzo e me l'ha dato era maraviglioso dico una cosa un'emozione indescrivibile un'emozione proprio grande si è così e alla fine questa emozione è tanto grande che io è stato un padre un padre per me pure capito proprio quando una persona si attacca a una persona per dire lo grande uno è come un padre proprio il sentimento anche perché tu Antonio l'hai conosciuto prima che lui diventasse Papa si prima per quello le sto a dire che era l'emozione che sono andato pure al bar ah è il Santo Padre adesso è così tu hai sempre lavorato con le scarpe e adesso diciamo la passione sta continuando di padre in figlio rispetto a quando eri più piccolo come vedi che è cambiato il mondo della calzatura il mondo delle scarpe ci sono state delle innovazioni oppure diciamo è più o meno sempre quella cosa al di là delle mode e guarda della moda adesso la moda va sempre no tutti gli anni cambiano di moda però le scarpe stanno lì sempre come è però ho visto che l'artigianato sta andando di più adesso perché adesso i negozi non si trovano però direi sempre le stesse modelli sempre le cose no però adesso sta andando più l'artigianato si per la gente le però le piace di più le scarpe fatte a mano e se fanno pure anche a sistemare delle cose e quello è bello perché così c'è più lavoro pure per l'artigiano grazie grazie Antonio grazie Daniel per essere stati con noi però adesso è tempo di alzare gli occhi al cielo perché vogliamo sapere che tempo farà oggi buongiorno al luogo tenente Antonio Bagnarola ci dica tutto come sarà il tempo oggi buongiorno a voi in studio e a tutti i telespettatori da casa come possiamo vedere dall'immagine del satellite l'anticiclone posizionato sul Mediterraneo centro occidentale garantisce ancora tempo stabile su gran parte delle regioni del nostro paese tuttavia una locale instabilità interesserà nel corso della giornata le estreme regioni meridionali ma andiamo a vedere nel dettaglio la previsione per la giornata di oggi al nord adensamenti compatti sulle estreme regioni orientali settentrionali e sulla Liguria dove qui nel corso della giornata saranno possibili locali deboli rovesci sulle altre regioni settentrionali da segnalare spesse velature ancora presenza di foschie dense locali banchi di nebbio fino a tarda mattinata e poi dopo il tramonto al centro cielo generalmente poco nuvoloso da segnalare anche qui la presenza già in queste ore poi dopo il tramonto di locali foschie o banchi di nebbia sulle coste tirreniche peninsulari e nelle valli sulle regioni meridionali e sulle due isole maggiori cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso tuttavia una locale instabilità con adensamenti anche compatti interesserà la Puglia salentina la Calabria e la Sicilia orientale con associati deboli rovesci in esaurimento poi dalle ore serali anche al meridione è da segnalare la presenza di locali foschie dense e banchi di nebbia in particolar modo sulla Campania e sulla Puglia garganica i venti saranno deboli di direzione variabile un po' su tutte le regioni localmente dai quadranti meridionali sempre di deboli intensità sul basso Adriatico e sull'Ionio i mari prevalentemente poco mossi localmente mosso l'Ionio settore meridionale infine concludiamo il nostro intervento con il quadro delle temperature che vedranno nei valori massimi della giornata un calo sulla Liguria sulle estreme regioni orientali e settentrionali sulla Calabria e sulla Sicilia pressoché stazionari sulle altre regioni bene con questo è tutto vi auguro una buona giornata e una rivederci a domani con le previsioni del tempo grazie al luogotenente Antonio Bagnarola e noi ci rivediamo con il meteo domani con Federico Stocchi del Forno degli Amici qua a Roma stiamo realizzando sta realizzando per la verità un pane un pane particolare un pane speciale al farro e siamo anche collegati con Luca Cesari per sapere qualcosa in più sulla storia del pane su quell'alimento che è sempre presente nelle nostre tavole e che mette più o meno sempre d'accordo tutti quanti a che punto eravamo rimasti Federico allora eravamo rimasti che ci serviva quel breve riposo per fare l'autolisi appunto vi ricordate quanto era brutto no? l'impasto era questa farina grezza vediamo come si è trasformato si è trasformato in qualcosa di già più... ancora non è bellissimo però però sta cambiando aspetto lo facciamo noi qui è perché le proteine della farina insieme all'acqua hanno iniziato a legarsi e a formare il famoso e tanto discusso glutine adesso che cosa andiamo a fare? io rovescio questo impasto grezzo su un piano di lavoro in questo caso io adesso ho una manualità perché è un po' per deformazione professionale però ci possiamo aiutare a casa con della semola di grano duro che se ti posso chiedere Giacomo questa? ho indovinato? ho indovinato! il 33% di possibilità io avrei sbagliato allora si presenta più giallognola non si può chiamare in maniera vera e propria farina perché è un semolato è una semola appunto il grano duro è completamente diverso dal grano tenero perché proprio a livello genetico ha un diverso numero di cromosomi è una cosa diversa ci dà una mano in cucina per fare parecchie cose perché appunto è un semolato in questo caso noi lo usiamo sulla spianatoia per non far appiccicare l'impasto porto i lembi di questo impastino verso il centro e con questa parte del palmo della mano vado a schiacciare guardate quanto è semplice l'operazione vi ricordate prima con un cucchiaio abbiamo girato per quanto tempo va lavorata l'impasto? ecco qua già è pronta vedete che adesso si presenta in maniera molto liscia prendiamogli un po' la farina e eccola qua che bello! il glutine è già formato e qui da questo momento in poi è veramente facile farlo a mano perché ci ha aiutato la natura in questo caso Federico io volevo chiedere una cosa però a Luca Cesari che è sempre in collegamento con noi Luca vorrei chiederti pane con panatico noi stiamo preparando il pane al farro ma con cosa si gusta meglio il pane al farro? beh il pane al farro è un pane un po' più grezzo diciamo di quello del pane di semolo del pane di grano tenero io però è un gusto personale lo vedo bene con alcuni tipi di salumi magari quelli un po' meno raffinati tipo la coppa di testa oppure alcuni salami un po' più grezzi magari con anche dell'interiore dentro e soprattutto con il quinto quarto secondo me con dei piatti a base di frattaglie secondo me è il massimo però bisogna dire che è un pane abbastanza neutro quindi si accompagna più o meno con tutto con il salumi io lo vedo bellissimo però anche perché pane che incontri abbinamento che viene suggerito qua Federico vediamo anche tanti panni che hai portato compresi alcuni che hanno anche un colore particolare ad esempio questo qua è sul perdognolo che pane è? quello è un pane alla cicoria io ci tengo sempre a dire che i nostri prodotti sono tutti prodotti nati dalla fantasia ma in maniera del tutto naturale a partire dagli ingredienti che utilizziamo quello è un pane che abbiamo inventato io e mia sorella durante un momento dove dovevamo appunto metterci alla prova abbiamo deciso di mettere uno dei nostri ingredienti dell'aroma che tanto amiamo che accompagna le nostre tavole che è la cicoria e devo dire che è un pane molto buono che poi uno può pensare che la cicoria non vada bene ad esempio per momenti come la colazione invece è un pane che è tostato con le note amare della cicoria la parte saporita della farina un po' di miele e pepe anche a colazione lo assaggerò Federico perché devi sapere che la cicoria è una delle mie verdure preferite Giacomo la mangiamo spesso a pranzo insieme a colazione ancora no però possiamo sempre sperimentare ma sperimenteremo ma invece Luca il pane era fermo va buttato? come possiamo valorizzarlo? cosa facciamo col pane era fermo? mai brutale il pane era fermo il pane era fermo storicamente aveva un uso fondamentale che era quello di costituire la base delle zuppe quindi il pane era fermo e magari anche tostato è alla base di tutte le zuppe si mettevano sul fondo del piatto e si versava sopra la zuppa per ammollarlo questo è storicamente l'uso più antico poi noi lo possiamo utilizzare normalmente grattugiandolo ad esempio per fare gli impasti come le polpette o per fare le panature quando si fanno le fritture ma ci sono tantissimi modi le panzanelle le panzanelle sono un modo eccezionale per riutilizzare il pane in sequenza bisogna che il pane sia a raffermo per fare un'ottima panzanella con i pomodoro le cipolle il basilico eccetera e prima ancora che sia raffermo però il pane siamo un po' prima ancora insomma siamo arrivati a questo punto Federico che ci facciamo con questo? allora a questo punto noi abbiamo messo quel poco lievito di birra perché dobbiamo far partire una fermentazione ovviamente io non sono un fan delle fermentazioni troppo breve perché la farina deve avere il giusto lavoro per scindere le parti organolettiche della farina che a noi organismo ci servono un po' di meno quindi abbiamo messo veramente poco se vi ricordate abbiamo messo un grammo finito il panetto lo mettiamo in lievitazione in canovaccio in qualcosa che comunque aggiusti l'umidità ovviamente non ha una ciotola a secco perché poi si crea un po' di condensa lo mettiamo in lievitazione un paio d'ore ma va coperto? si va coperto se no si fa una parte ossidata e lo possiamo anche ricoprire col canovaccio e un paio d'ore a temperatura ambiente la temperatura ambiente ad oggi è un po' più calda e quindi diciamo quando iniziamo a vedere che sta partendo qualcosa diciamo cresce di un terzo rispetto al suo volume sappiamo che la fermentazione è partita dalla nostra temperatura ambiente e lo possiamo mettere in frigorifero o coperto con un canovaccio oppure con della pellicola il giorno dopo che cosa andiamo a fare? troveremo questo panetto molto cresciuto se tutto è andato bene se tutto è andato male può succedere non abbiate paura se non lo trovassimo cresciuto lo rimettiamo a temperatura ambiente e se abbiamo tempo lo cuociamo un po' più tardi se fosse andato tutto bene che è funzionato tutto quanto lo andiamo a mettere in forno teglia e forno preriscaldato io in questo caso me ne sono preparata una la preriscaldiamo cioè la mettiamo con forno a 220-250 gradi poi capiremo anche noi l'aggressività del nostro forno lo rovesciamo, fingiamo ovviamente che sia lievitato sulla teglia preriscaldata pratichiamo un'incisione e poi lo andiamo a mettere in forno 30 minuti a 220 gradi se abbiamo possibilità nebulizziamo dell'acqua con uno spruzzino la schizziamo nei bordi della teglia temperatura e forno statico 20 minuti finali a circa 180-190 gradi lo lasciamo asciugare un po' gli ultimi 5 minuti col forno aperto di modo che la crossa diventi bella croccante come i panni che vi ho portato io e poi facciamolo freddare un po' e gustiamo e poi lo portiamo a tavola ma quando lo portiamo a tavola Luca, pane e superstizione cosa non si fa con il pane quando è a tavola? con il pane la cosa fondamentale è non rovesciarlo questa è la superstizione fondamentale il rovesciamento del pane sulla tavola si dice che porti male perché è proprio il rovesciamento della mensa di quello che è il cibo principale il cibo più prezioso è un po' come il rovesciamento del sale insomma ecco questa è una superstizione che penso che conoscono un po' tutti gli italiani grazie Luca grazie per essere stato con me questa mattina grazie e tu Giacomo lo sapevi? io lo sapevo perché c'ho l'abitudine perché a volte il pane a tavola fa così e mamma lo tirava sempre dritto perché deve sempre stare dritto per cui è una cosa che mi arriva da mamma è proprio un ricordo da piccolino tempo di saluti? è tempo di saluti lo chiedo? conferma? ci lo lascio un po' di pane alla cicoria? assolutamente sì io lo devo assaggiare grazie ci deve fare colazione no ci facciamo merenda dopo anche merenda è giusto è vero perché continuiamo a mangiare Federico Stocchi del foro degli amici grazie per essere stato con noi grazie alle quattro generazioni che ti hanno portato qui e che ti consentono di fare pane noi andiamo in pubblicità facciamo merenda e poi ritorniamo io prendo questo oggi torniamo a scuola ma alla scuola biblica e lo facciamo con padre Salvatore Maurizio Sessa tornato a salarci buongiorno ben trovato biblista e rettore della chiesa delle Sacre Stima di San Francesco qui a Roma scuola biblica che quest'anno ha un tema particolare che ci mette tutti quanti in riga in riga con noi stessi innanzitutto che è quello del discernimento allora innanzitutto di che si tratta? allora innanzitutto perché la scuola biblica nasce dall'iniziativa l'incoraggiamento di Daniele Libanori vescovo del settore centro l'anno scorso abbiamo affrontato il tema della paura che è un tema sempre attuale abbiamo sempre a che fare dobbiamo misurarci con le nostre paure quest'anno il tema del discernimento discernimento è una parola forse un po' tipica nel nostro mondo ecclesiale però indica una necessità che tutti abbiamo la necessità di capire il senso della nostra vita il senso degli eventi il senso di quello che ci succede in ordine a una decisione adeguata al bene che vogliamo raggiungere quindi il tema è un po' questo declinato un po' in tre verbi conoscersi decidersi e donarsi tra l'altro un titolo che riprende un volumetto del Cardinal Martini di un po' di anni fa lo riprende e lo modifica Martini che è stato un po' veramente un maestro dell'ascolto della parola lo è stato per tanti giovani e noi vogliamo un po' riproporre questa scuola in cui possiamo apprendere alla luce della scrittura come leggere e rileggere la nostra storia la nostra vita in ordine poi appunto a una decisione efficace che ci porti al bene che desideriamo Padre Salvatore ma chi può partecipare alla vostra scuola? Allora è aperta assolutamente a tutti l'iscrizione è gratuita si può seguire anche online ovviamente per chi è a Roma si raccomanda assolutamente la partecipazione per tanti motivi di interazione e poi direi non è una scuola un percorso fatto per i credenti o esclusivamente per i credenti è una scuola fatta anche per i non credenti o meglio diciamo non è né per i credenti né per i non credenti è per chiunque voglia pensare voglia allenarsi a pensare a riflettere sulla realtà che viviamo a discernere appunto dove sia la verità dove sia la menzogna anche perché ci troviamo cioè tutti quanti si trovano in questo momento storico credenti e non credenti di fronte l'essere umano si trova sempre di fronte alle scelte particolarmente in questo secolo dove sembra di avere tutto quanto alla portata di mano quindi crescendo uno può scegliere qualsiasi cosa da comprare può scegliere qualsiasi via della vita si possono fare corsi di qualsiasi cosa e diventare tutto quello che si vuole occorre però una bussola perché fra tante scelte è facile perdersi assolutamente noi viviamo un po' nell'illusione di avere la vita sotto controllo nell'illusione che tutto dipenda semplicemente dall'ascolto di noi stessi in realtà ci rendiamo sempre più conto che le nostre scelte dipendono soprattutto dalla parola che ascoltiamo dipende da chi ci fidiamo in chi riponiamo la nostra fiducia e in questo la figura fondamentale di riferimento è se uno legge la scrittura è la figura del profeta ma chi è il profeta padre Salvatore? il profeta è l'uomo della parola è l'uomo che si sente chiamato a parlare è l'uomo che si sente dire da Dio queste parole io pongo sulla tua bocca le mie parole è quindi un uomo che mette nella storia una pretesa tra virgolette assoluta quella di essere il portavoce stesso di Dio è quindi una parola che chiede ascolto una parola che si pone come appunto normativa in qualche modo certo ovunque c'è un profeta c'è sempre anche un falso profeta e come facciamo a capire dov'è la verità e dov'è la menzogna che è un po' diciamo il dilemma fondamentale ma quando ci mettiamo in ascolto dobbiamo anche allenare il nostro ascolto e il discernimento appunto nel capire l'una cosa o l'altra come facciamo? allora se noi leggiamo la scrittura Dio ha promesso a partire da Mosè la permanenza della sua parola attraverso la figura del profeta l'uomo chiamato in mezzo ai fratelli a essere appunto il suo portavoce ci sono però appunto non soltanto chi dice di essere profeta lo è automaticamente e allora nella scrittura ne possiamo vedere che ci sono tutta una serie di criteri anche se non presentati in modo sistematico criteri per valutare e riconoscere il vero profeta dal falso profeta ossia la verità dalla menzogna e poi ricordiamoci che distingue la verità dalla menzogna non è un problema accademico non è un discorso da talk show seguire la vita la verità porta alla vita seguire la menzogna porta alla morte evidentemente e quindi la necessità di riconoscere il vero profeta cioè riconoscere qual è la verità a cui a consentire quella verità che mi rivela il senso degli avvenimenti il senso della mia storia è una necessità ineludibile e quindi cercheremo durante questo lungo percorso di vedere come poter riconoscere questa parola padre salvatore ma ci puoi dire proprio nel concreto come si svolge questa scuola biblica proprio come funziona praticamente allora ci sono una serie di incontri settimanali ogni martedì dalle 20 alle 21 quindi in presenza alla chiesa delle Sacre Stimmati di San Francesco all'Arg Argentina e non ci sarò soltanto io in quanto biblista ma ci saranno anche diversi miei amici sia biblisti che teologi collaboratori che faranno sentire secondo diverse prospettive anche a partire dal loro studio alla loro esperienza come si può entrare nella scrittura e come leggerla in modo tale da trarne frutto insomma per la propria vita e quanto dura il corso? il corso dura appunto parte ora il 24 ottobre e arriva fino alla fine di maggio quindi sono più o meno già una trentina di incontri poi cercheremo anche di fare momenti di ritiro di condivisione poi per chi a Roma la condivisione spesso assume anche un aspetto proprio si sta a tavola perché prima abbiamo parlato di pane esattamente perché comunque il Vangelo la rivelazione passa attraverso i luoghi ordinari della vita passa attraverso la forma del simbolo che noi insomma recepiamo attraverso proprio la vita ordinaria e la tavola in questo senso è un grande esempio di comunione, di fraternità quindi è una parola è un percorso che vuole portare come dire a decisioni avvedute nella vita ma poi soprattutto a una comunione ma tra l'altro anche il titolo conoscersi, decidersi, donarsi non è inteso in senso diciamo così autoreferenziale e basta coinvolge due soggetti conoscersi ovviamente riguarda me ma riguarda anche il conoscere di Dio Dio mi conosce, mi vuole conoscere vuole entrare in relazione con me decidersi certamente riguarda il soggetto ma riguarda anche il fatto che Dio si è già deciso per me si è deciso di stare con me donarsi donarsi tutta la rivelazione biblica è una chiamata a questo reciproco scambio di doni tra me e Dio tra noi e il Signore e Lui che si dona a noi ci hai detto che il tema dello scorso anno riguardava la paura tutto sommato sembra anche in linea con il tema di quest'anno perché la paura che cos'è? se non l'incapacità di scegliere di scegliere la strada giusta qualcosa che ci blocca prima ancora della scelta o nella scelta stessa? Sì infatti il percorso dell'anno scorso è stato proprio ideotico per lo sviluppo di questo tema abbiamo affrontato diverse paure ce ne sono tantissime anzi per chi si iscrive e poi è possibile rivedere e anche riascoltare gli incontri dell'anno precedente la paura di per sé appunto è un sentimento ma è un'emozione che ci segnala un pericolo quindi di per sé serve per la vita però è vero che ci sono anche paure che la vita la bloccano la impediscono e quindi il decider il conoscersi per poi decidersi e donarsi è un percorso fondamentale per arrivare un po' una vita piena compiuta vissuta con una piena consapevolezza Padre Salvatore ce l'hai detto già prima che è un corso aperto per credenti ai credenti e non credenti volevo soffermarmi proprio sui non credenti c'è qualche storia? hanno partecipato altre persone non credenti? un po' la tua esperienza beh il non credente c'è in tutti quindi sì ci sono state persone anche che si sono accostate per semplice curiosità e sono rimaste insomma affascinate da questa parola parola bellica che parla a tutti parla a tutti perché parla alla nostra umanità intercetta dimensioni antropologiche fondamentali della vita come il desiderio di comunione il desiderio dell'amore appunto la paura di non farcela soprattutto una fase di questo percorso dell'anno scorso poi che riproporremo se vi ricordate è stata la passione di Giuda e la passione di Giuda porta in scena mette in scena la nostra tavica paura di non farcela la paura del fallimento la paura di venire meno a quali che sono anche i propri desideri di vita di pienezza quindi sì ci sono state tante testimonianze in questo senso ricordiamo anche come è possibile partecipare prima di salutarci allora assolutamente la raccomandazione è partecipare in presenza dal vivo faccia a faccia e poi è possibile partecipare anche online per chi non è a Roma anche qua basta mandare l'email iscriversi gratuitamente e va mandato il link per seguire in diretta oppure anche le registrazioni grazie grazie padre Salvatore grazie rimane pure comodo Giacomo ci spostiamo perché è arrivato il momento di salutarci ma solo per una pausa della Santa Messa ma dopo ci rivediamo perché ci rivediamo perché c'è un appuntamento importante ritorna nel nostro studio il Cardinal Comastri con cui vogliamo fare un percorso bellissimo che tocca l'amore e che tocca anche quel giovane di cui oggi è la festa il Beato Carlo Acutis che si è fatto interprete dell'amore in particolar modo dell'amore per l'Eucaristia e allora ci vediamo dopo la Santa Messa grazie Giacomo adesso parliamo d'amore e lo facciamo insieme al Cardinale Angelo Comastri che è tornato a trovarci per presentare il suo ultimo libro Aiuto nel mondo sta scomparendo l'amore buongiorno Eminenza buongiorno grazie ci può raccontare come nasce l'idea di scrivere questo libro nasce da una provocazione la provocazione viene da una rivista tedesca del Spiegel che è uscita con una copertina che raffigurava un giovane che baciava se stesso allo specchio che è ripreso poi nella copertina il Narciso del Caravaggio e sopra questa immagine c'era scritto la società del futuro la società dell'io mi venne in mente proprio una parola di Mare Teresa che diceva sfido chiunque non troverete mai un egoista felice la società degli egoisti è una società di infelici e di violenti infelici ritorno ancora su Mare Teresa 1991 celebravo la messa nella chiesa di Sangore al Cedio dove sono le suori di Mare Teresa durante la messa un fotografo scattava sempre foto davanti agli occhi di Mare Teresa tutti i flash io durante la messa non potevo intervenire però fremevo dentro di me ma guarda questo Mare Ducato sta disturbando questa povera suora che prega dopo gli chiesi ma perché ha disturbato la madre di quella maniera? volevo fotografare i suoi occhi non ho mai visto occhi così felici io dico madre spieghi lei le risposte il segreto è tanto semplice i miei occhi sono felici perché le mie mani asciugano tante lacrime faccia così anche lei e apre gli occhi felici come i miei Mare Teresa è stata una contestatrice dell'egoismo e lei si è fatta interprete proprio di quella di quell'amore di cui ha impregnato anche il suo nuovo libro e lei ha avuto modo eminenza di naturalmente di conoscerla e di essere anche a contatto proprio con quelli che sono stati gli insegnamenti che ha dato a tutto il mondo l'hai compreso certo Mare Teresa ancora oggi ha tanto da dire e tanto da insegnare dovunque andava Mare Teresa lasciava un segno ricordo il 2002 a Toronto Giovanni Paolo II disse non siate come le lumache che lasciano dietro di sé soltanto e lasciate un po' di bava Mare Teresa non ha fatto così ha lasciato un solco pensate oggi sono più di 6.000 le suore di Mare Teresa che soccorrono i poveri in 762 case di carità in 139 diverse nazioni del mondo questo è un prodigio nel momento di crisi e di egoismo che lo di oggi un miracolo di questo genere è il miracolo di Mare Teresa Adesso Eminenza vogliamo collegarci con Assisi perché oggi è la festa del Beato Carlo Cutis e noi dovremmo avere in collegamento Padre Marco Gaballo Rettore del Santuario della Scogliazione Buongiorno Buongiorno Padre Marco Buongiorno Buongiorno a voi Buongiorno a tutti Eminenza Buongiorno Buongiorno Padre Marco quanti sono i fedeli che arrivano oggi lì e cosa chiedono cosa cercano e quanti sono posso dire tanti diciamo molte migliaia a settimana ecco diciamo così in media e cosa cercano ecco diciamo che la cosa sorprendente è che un luogo che normalmente è un luogo di lutto e di pianto come può essere una tomba e qui noi vediamo che invece le persone vengono tristi o in difficoltà o che hanno bisogno di ripartire di slancio per la loro vita e trovano appunto motivazione, energia, forza per riprendere la strada di tutti i giorni e qualcuno per uscire da qualche angoscia più grave come le malattie anche di bambini e di familiari ecco quindi facciamo l'esperienza di un luogo che infonde forza alle persone a molte persone padre Marco non è tantissimo tempo che sei rettore del santuario come esperienza immagino che sia anche qualcosa che riesce a far approfondire il rapporto la relazione con il Beato stesso, con Carlo Cutis stesso sì è poco tempo diciamo da 16 aprile che era la Domenica della Misericordia quindi diciamo che l'inizio è molto bello poco tempo però ecco tantissimi eventi tantissimo lavoro devo dire tutto veramente bello luogo di grazia qui e lo sperimentiamo tutti i giorni quindi però stiamo ancora ecco ascoltando imparando cercando di capire anche le strade che vuole aprire il Signore ecco grazie padre Marco tra un po' so che ci porterai proprio davanti alla tomba del Beato Carlo Cutis ci vediamo tra qualche minuto grazie 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 benissimo ciao ciao Eminenza lei nel suo libro riferisce le parole usate dai figli di John Lennon terribili parole ci può dire quali sono? cosa dicono? nel 2015 moriva la moglie di John Lennon Cinzia in quell'occasione vennero intervistati i due figli i figli più grandi e Giulia ne chiesero che ricordo ha di tuo padre? famosissimo padre la risposta è agghiacciante lo dico qui nel mio libro mio padre cantava sempre l'amore e parlava sempre di amore ma mio padre non ha mai amato nessuno non ha amato la mia mamma non ha amato neanche me ma il motivo? era incapace di amare viveva soltanto per se stesso sono terribili queste parole e ha aggiunto ho 48 anni ho evitato di avere figli perché avevo paura di rassomigliare a mio padre non volevo che i miei figli soffrissero quello che ho sofferto io ma guardate che è una cosa terribile eh e ne abbiamo di persone così oggi ne abbiamo l'altro figlio ha detto che ricordo ho di mio padre figlio di una donna diversa di una coreana già questo dice tutto e lui ha detto ricordo quanto ci ha fatto soffrire tradiva sempre la mia mamma l'unico ricordo che ho quanto ci ha fatto soffrire ma ci pensate che vogliamo alla moltiplicazione di persone come queste? e se questi sono i modelli noi ci meravigliamo dei supratori di Palermo e di quelli di Caivano ma ne vedremo tanti persone così pensate un'attrice recentemente pochi giorni fa non è che io seguo tanto queste cose però lo dice la televisione l'ho sedito con i miei orecchi gli hanno chiesto con quattro sei stata? ho perso il conto ah questi sono i modelli se i modelli sono i calciatori come quella a cui hanno dedicato lo stadio di Napoli che non si sa quanti figli ha lasciato di qua di là i meravigliati poi degli supratori ma qui siamo falsi siamo ipocriti e qui racconto anche una storia bella e drammatica di Maria Goretti pensa Maria Goretti veniva da una famiglia di povera gente braccianti quindi avevano solo il braccio per lavorare hanno lasciato Corinaldo nelle Marche con un calesse sono andati a Ancona Ancona il treno per venire a Roma arrivati a Roma pronto il calesse per andare a Paliano nell'agropontino che allora era zona malarica arrivati a Roma desideravano tanto vedere San Pietro gente buona ma non poterono vedere subito partire per il lavoro la mamma vide San Pietro nel 1950 quando la figlia venne richiara santa io ricordo molto bene allora nel 1950 avevo 7 anni e dal mio paese partì un pulmone pulmone scassato come erano allora strade non asfaltate per raggiungere Roma per andare alla canonizzazione di Maria Goretti oggi un pulmone di giovani non partirebbe per questo partirebbe per un concerto di cantanti sguaiati o frivoli andarono perché andarono a Roma questi 50 giovani perché si riconoscevano gli ideali per i quali Maria Goretti ha guardato la vita credevano nella purezza ma tanto è bene uno mi ha detto mi ha mandato un messaggio lei ha un bel coraggio a parlare di purezza certo e ne parla ancora e non solo ne parla ma lei ha scritto anche una preghiera proprio Maria Goretti ce la vorrebbe leggere insomma a noi e anche al nostro pubblico che ci sta seguendo volentieri la preghiera dice così o Maria Goretti se tu fossi vissuta i nostri giorni forse saresti stato uccisa con maggior disprezzo non l'ho detto a qua leggero eh la tua testimonianza oggi è tanto scomoda e per questo motivo è tanto necessaria tu hai difeso la dignità della donna rifiutando di essere usata come oggetto di una passione senza cuore e senza amore oggi tante donne vendono la dignità e tanti uomini comprano la donna in un mercato in cui sono tutti sconfitti l'una e l'altra prega per loro per la loro dignità tu hai capito la fondamentale differenza che c'è tra la libertà e il capriccio e hai gridato con la forza del sangue che il bene è bene perché fa bene e il male è male perché fa male prega per la nostra generazione affinché veda l'inganno che la sta devastando tu hai difeso l'amore vero l'amore che nasce nasce dalla purezza e qui mi spiego se l'amore è donarsi per donarci bisogna possedersi altrimenti sei schiavo del capriccio e poi donarci e possederci questa è purezza lo capì anche Gandhi lo racconto qui anche Gandhi lo capì disse senza calcità l'uomo è come un brutto come un animale dominato dall'istinto Gandhi eh non cristiano questo povero Alessandro Serenelli che voleva stuprare Maria Goretti era un giovane e lo racconta lui stesso lo dico anche nel mio libro racconta che io sono cresciuto nell'ambiente marinaio ecco di Ancona lì si parlava soltanto sì di donne si avrà sotto divertimenti la donna come usa e getto e lui ci è cascato e disse ci sono cascato ero nel fango e più mi rivoltavo più mi fangavo e voleva usare Maria Goretti per questo scopo Maria Goretti è stata veramente un'eroina ha detto no no tu non mi usi in questa maniera un libro recente ha presentato Maria Goretti come una ragazzina immatura vipegata su se stessa incapace anche di gustare la vita ma pensate chi era Maria Goretti a dieci anni nelle poludi pontine muore il papà di malaria lei aveva dieci anni fu capace di dire alla mamma mamma ora le cose sono un po' più difficili tu prendi il posto di papà nel lavoro dei campi io in casa penso tutto io sei figli eh sei figli io preparo da mangiare pulisco ma è tutto a posto tu lavora nei campi questa è una bambina immatura pensa che dopo il delitto perché Alessandro la voleva usare lei si è rifiutata appena la mamma la raggiunse in ospedale in quelle condizioni quattordici pugnalate disse alla mamma subito mamma ma i fratellini pensa loro ti preoccupare per me immatura è immatura chi l'ha scritto ma ci pensate eppure questa è la cosiddetta cultura diffusa oggi Eminenza possiamo tornare per un attimo al discorso di prima John Lennon John Lennon era un idolo per tantissimi giovani lei ci ha letto le parole dei figli secondo lei quali saranno le conseguenze? le conseguenze sono drammatiche avremo una diffusione di egoisti ma la Teresa gli egoisti non sono felici non sono felici è impossibile ho raccontato nel mio libro anche una storia drammatica di di Alessandria di Rudini Carlotti figlia di un celebre statista Antonio di Rudini al quale vedete in giro si vedono piazze e strade dedicate a lui ebbene quest'uomo tradiva regolarmente la moglie regolarmente potremmo dire sfacciatamente la moglie e lei se ne accorse la figlia trovò il padre abbracciato ad una donna che non era la sua mamma lei rimase scioccata Alessandria di Rudini si sposò giovanissima perché voleva scappare dalla famiglia lo so il marchese Carlotti rimase vedo a Poverina dopo poco tempo con due figli maschi marito morto di tubercolosi anche i figli morrino di tubercolosi questa ragazza cascò nella rete di Gabriele D'Annunzio lo incontrò ad un matrimonio l'ha corteggiata ma ci cascò la so quanto volle poi i capricci tornano poco poi l'ha abbandonata e lei si è sentita tradita ferita disperata cosa fa? a un certo punto decide di andare a Lourdes a Lourdes durante la processione del Santissimo casca in ginocchio e dice Signore ho avuto tutto nella vita ma non ho avuto niente ora ho capito quello che mi manca mi mancavi tu si converte io mi commuoro a dirlo diventa suora carmelitana la cosa incredibile e muore suora carmelitana Alessandra di Rudini pensate a Lourdes nel leviottolo che scende tra il santuario superiore a livello della grotta ecco c'è un monumento a un cieco avvicinandosi si vede bene che gli occhi non ce l'ha quindi è un cieco che sta così con la mano dietro c'è scritto questo monumento è stato donato da una donna italiana io sono un po' curioso gli ho domandato ma chi era questa donna italiana non lo sapeva sinceramente poi domanda domanda non lo sapeva nessuno alla fine non disse il rettore santuario ah quella donna si chiamava Alessandra di Rudini Carlotti ah bello e davanti questo è dietro davanti c'è scritto ritrovare la fede è più che ritrovare la vista è più che ritrovare la vista se l'urdo è un luogo che riesce a cambiare le persone vogliamo andare in un altro tornare in un altro luogo importante che è Assisi dove ci aspetta sempre padre Marco Gaballo al cospetto di Carlo Acutis che nella sua breve vita sette interpretare ed essere protagonista di quell'amore di cui stiamo parlando col Cardinal Comastri e l'impronta che ha lasciato Carlo Acutis è un'impronta che è riuscita anche a valicare non solo i confini italiani ma veramente ad arrivare in tutto il mondo padre Marco ponendosi come esempio oggi stiamo parlando anche di modelli ponendosi anche come esempio e come modello qual è il segreto di questa diffusione che ha veramente raggiunto tutto quanto il pianeta arrivando poi particolarmente in Irlanda di cui stiamo per parlare? Sì ma io posso dire quello che così riesco a mettere insieme e credo che le parole anche del Cardinale siano molto in sintonia con il cuore della spiritualità di Carlo nella sua tomba tra le varie frasi da lui pronunciato è riportata questa non io ma Dio quindi lui definisce il processo di conversione una sottrazione cioè togliere l'io il più possibile dalla propria vita significa lasciare spazio quindi spogliarsi lasciare spazio all'azione di Dio questo è evidentemente il grande segreto se lo vogliamo dire in sintesi ed è un segreto che Carlo è riuscito a trovare nell'eucarestia in fondo se noi ci pensiamo all'eucarestia è proprio il luogo dove è vero che c'è un celebrante c'è il coro che sono i lettori ci sono tanti gesti ma è per eccellenza l'azione di Dio dove chi viene mette l'io fuori lo lascia fuori dalla chiesa e si rende disponibile all'azione di Dio per questo anche è difficile andare a messa noi diamo per scontato che sia semplice stare all'eucarestia ma invece bisogna capire questo e quindi l'uomo abituato all'io si annoia a messa perché l'io è a digiuno ed è legato in qualche modo durante l'azione liturgica quindi Carlo invece ha vissuto a rovescio cioè dalla prima comunione alla morte tutti i giorni è andata all'eucarestia proprio per sottrarre terreno all'io ecco ha capito questo grande segreto e questo evidentemente le persone magari non lo sanno a livello razionale ma lo fiutano hanno un certo fiuto per questa vita così radicale in questo senso nel lasciare a Dio tutto lo spazio Padre Marco vivere la festa del beato Carlo Acutis vuol dire ripercorrere anche un po' e avvicinarsi alla figura di un ragazzo che ha vissuto pienamente non ha vissuto la santità ha vissuto pienamente il Vangelo e nella sua piena adesione è riuscito a creare una traccia di cui ancora oggi stiamo parlando e forse bisogna ritornare a quella semplicità a quell'amore che lui metteva non solo nell'andare a messa non solo nel vivere l'eucarestia ma nel vivere veramente la parola è così credo che la figura di Carlo sia da questo punto di vista di grande incoraggiamento per tutti perché anche e soprattutto nella nostra cultura pensiamo che la santità sia qualcosa di complicato di molto lontano di qualcosa per pochi mentre vedendo un ragazzo che vive l'adolescenza la pre-adolescenza in modo santo si capisce che invece è qualcosa di addirittura semplice in un certo senso di veloce di accessibile ecco io però la figura di Carlo dia molto coraggio a tutti per questo per dire guarda la santità in realtà è una questione molto a portata di mano e Dio è vicinissimo in fondo si tratta appunto di capire che c'è quel processo di sottrazione che dicevamo prima ma che è anche una grande e bella avventura padre marco ti ringraziamo rimani con noi ci vediamo dopo ci vediamo dopo anche col cardinal comastri andiamo in pubblicità perché parleremo anche di quella che dovrebbe essere quella culla dell'amore di cui si parla nel libro del cardinal comastri ossia la famiglia a fra poco stiamo parlando dell'amore lo stiamo facendo con il cardinale angelo comastri che ci sta presentando il suo ultimo lavoro il libro aiuto nel mondo sta scomparendo l'amore eminenza siamo arrivati al tema attualissimo della famiglia la famiglia dovrebbe essere lo specchio dell'amore è così? oggi beato carla cutis ieri era san giovanni ventitresimo tutti lo ricordiamo papa giovanni come il papa della bontà che è singolare il papa della bontà dove l'ha imparata? in famiglia il primo angius della storia ha letto lui era il 9 novembre del 1958 lui venne letto nel fine di ottobre dopo pochi giorni si affaccia dalla finestra al piazza san pietro ormai abituale a vedere il papa ma ha iniziato lui eh iniziato papa giovanni disse questa peghiera mi è tanto cara e ci tengo a dire che non l'ho imparata né in parrocchia né in seminario l'ho imparata dalla viva vostra della mia mamma la quale quando suonava la campana del villaggio disse lui e nessuno allora aveva l'orologio la mamma d'altra bocca diceva l'angelo del signore portò l'annuncio a Maria e noi tredici figli che dormivamo tutti per terra su paglierici di fogli di grano turco rispondevamo alla preghiera della mamma in casa mia la giornata iniziava così e aggiunse eravamo tanto poveri la polenta quasi tutti i giorni le scarpe soltanto per le feste altrimenti ho scarso e con gli zoccoli ma sentite la conclusione com'era bella la mia famiglia com'era bella la mia casa sono papa ma ho ancora tanta nostalgia della mia famiglia com'era bella la mia casa non c'erano niente lasciavano tutto perché c'erano Dio pensa a questo ragazzo io ho avuto questa foto nel carcere di Regina Shelly sono stato cappellano per sei anni un carcerato mi ha dato questa foto e mi disse la conservi e racconti la storia di questo ragazzo venne abbandonato alla porta di una chiesa ad Arese vicino Milano la chiesa era gestita da Salesiani c'era scritto non è stato ancora battezzato era il 28 agosto Sant'Agostino lo battezzarono con un mediagostino questo ragazzo è cresciuto senza padre senza madre ma il tormento suo era ma chi è mio padre? chi è la mia mamma? io lo voglio sapere e chi lo poteva dire? nessuno a 16 anni prende il motorino e va a sbattere contro un camion muore così sono andati a frugare nella sua scrivania e hanno trovato quella preghiera senti cosa dice signore io non sono capace di pregare mai nessuno me l'ha insegnato immaginate che mi avevano insegnato ma quando un bambino è stato abbandonato dal padre come fa a dire padre nostro? pensa subito che il padre l'ha abbandonato come fa a credere nell'amore se la mamma il simbolo dell'amore l'ha abbandonato? non riusciva a pregare sentite ma tu esisti davvero? se esisti perché non ti fa vedere da me? forse pretendo troppo mi dicono che le vette, il mare, i fiori tutto il creato parla di te io non sono capace di scoprirti quando sei ferito dentro leggi tutto in maniera distorta capita anche a noi eh quando abbiamo delle ferite dentro vediamo tutto in maniera distorta conclude dicono anche che l'amore sia una prova della tua esistenza forse è per questo che io non ti ho incontrato non sono mai stato amato in modo da sentire la tua presenza e conclude signore fammi incontrare un amore che mi porti a te un amore sincero disinteressato fedele generoso che sia un po' con l'immagine tua cosa vuol dire? dammi una famiglia mi manca la famiglia mi manca il padre mi manca la madre mi manca tutto l'altra parte della medaglia è il fatto di lei ha scritto un libro sull'amore perché quell'amore è riuscito a provarlo è un amore in cui lei è cresciuto in famiglia lei spesso ci ha parlato della sua mamma che famiglia è stata la sua eminenza? i miei genitori erano molto poveri molto poveri mio padre era contadino e fa legname perché un lavoro non bastava di andare avanti ma in casa mia c'era sempre la preghiera ed era la mamma che insegnava a pregare a me e la mia sorella pensate che la sera noi ci addormentavamo sempre dicendo mamma ci date la benedizione se ho fatto qualche capito e capitava allora la mamma aspettava poi dopo mi dava la benedizione mi ricordo quando sono riuscito a dire la prima Ave Maria della mia vita la mamma mi portava una chiesina dedicata alla Madonna del Buon Consiglio e ricordo che proprio in quella chiesina riuscì a dire per la prima volta tutta l'Ave Maria e la mamma terminata l'Ave Maria erata contenta mi baciò sulla fronte ti confesso ogni volta che dico l'Ave Maria io risento il bacio della mia mamma ma che ci sono ricordi che ti lasciano per sempre Massimo Rasedio diceva genero di Alessandro Manzoni ha sposato la figlia siamo fatti tutti di una stoffa nella quale le prime pieghe i primi ricordi restano per sempre tanti figli con questa famiglia di oggi ma che ricordi hanno? che ricordi hanno? quella stoffa che pieghe ha? ma ci pensate l'importanza della famiglia? che futuro avremo con questo tipo di famiglie che non sono famiglie? io lascio un interrogativo e con questo interrogativo ce ne vogliamo ad Assisi ritorniamo da padre Marco Gaballo nel giorno della festa lo ricordiamo del beato Carlo Acutis quest'oggi con sua eminenza stiamo parlando padre Marco inevitabilmente anche di modelli modelli educativi compagni di viaggio persone che uno santi o beatiche porta con sé come compagni di viaggio è stato inaugurato proprio da poco uno studentato a Milano il nome di Carlo Acutis è ritornato possiamo considerarlo Carlo come in questo caso appunto un modello educativo? beh senz'altro direi che Carlo fa vedere appunto come la radicale apertura a Dio all'Eucaristia in realtà non toglie niente di tutto ciò che c'è nell'adolescenza che è bella sport utilizzava internet aveva tanti amici nella scuola cioè una vita per un certo verso normalissima e piena forse quello che può distinguere molto tolto il lato invisibile agli occhi è che aveva fin da piccolo che anche stupiva i miei confratelli di Milano che lo conoscevano che già da preadolescente era sensibile alla povertà quindi lo si trovava insieme ai frati a servire alla mensa e che magari la bontà è molto diffusa non ce n'è perché anche noi sperimentiamo tante persone che vogliono fare volontariato però trovare uno nella preadolescenza che serve alle menze questo è molto strano ecco diciamo che Carlo anche in quel caso ha precorso i tempi quindi però faceva cose ripeto di attenzione di sensibilità che sono compatibili con una vita impegnata immersa anche nelle cose più belle dei giorni di oggi come i mass media lo sport l'impegno dello studio quindi credo che sia un modello che anche i giovani possono vedere come molto vicino a loro molto accessibile ecco nonostante la radicalità e l'originalità di Carlo Padre Marco ci puoi raccontare ci puoi raccontare quali saranno gli appuntamenti della giornata di oggi sì ma oggi in realtà abbiamo fatto ecco un triduo oggi chiude questo triduo il Vescovo Domenico quindi c'è semplicemente direi così c'è un rosario e la celebrazione eucaristica nelle giornate precedenti oltre questi due impegni quotidiani abbiamo semplicemente ripreso solo due aspetti della vita di Carlo e cioè ieri sera un'adorazione eucaristica con Carlo che ci ha portato insieme a Francesco verso Gesù e il giorno prima la sera abbiamo aperto una riflessione dedicata a riflettere su come si può utilizzare il web internet in una maniera sapiente in una maniera intelligente perché le opportunità che si aprono sono tantissime che si sono già aperte in realtà da tanti anni ci sono poi tanti rischi soprattutto per i più piccoli allora il tema era come accompagnare anche i genitori che si trovano con i figli molto piccoli che già usano questi mezzi ecco ci raggiunge molto questa voce che non hanno tanti genitori non si sentono molto accompagnati e gli manca un po' di di così di riflessione noi abbiamo cercato di dare questo è stato molto utile credo molto bello seguire ecco questa linea di Carlo che Carlo ha iniziato grazie grazie a padre marco gaballo rettore del santuario della scogliazione grazie grazie per essere stato con noi grazie a voi auguri di ogni bene grazie eminenza abbiamo parlato di tanti modelli sbagliati di chi non sa amare però poi ci sono tanti esempi positivi come il beato Carlo Cutis e lei ci ha portato anche questo libro che ha scritto è un'omelia sul beato Carlo Cutis pensate insistiamo sempre sul fatto che Carlo Cutis riceveva sempre tutti i giorni l'eucaristia ma non basta viveva l'eucaristia una cosa ben diversa cosa vuol dire? vuol dire che si lasciava trasformare dall'amore che ci viene in conto nell'eucaristia riceveva una trasfusione di amore prova ne è il fatto è vissuto 16 anni una vita breve ma vissuta veramente senti i giorni del funerale quando sono andati in chiesa hanno trovato le panche alle amanti us occupate erano i poveri che Carlo soccorreva ma la cosa straordinaria questo giovane aveva capito che lo scopo della vita è donarsi e ha vissuto il dono impalato dall'eucaristia d'accordo ma l'ha vissuto ecco perché un giovane che ha vissuto pienamente la vita in 1996 penso ricorderete anche voi in Italia c'era una specie di epidemia di follia scalanziavano i sassi e le cavalcavia vi ricordate? e morì una povera ragazza marchigiana io allora ero alcivesco a Loreto ho conosciuto quello sposo rimasto vedvo in bagno di nozze ebbene quei ragazzi di Tortona vennero affidati a un famoso psicologo Vittorino Andreoli io avevo in modo di incontrarlo gli chiesi ma lei ha avvicinato quei giovani ma che conclusioni ha tratto mi disse guardi che non erano ragazzi malati ci farebbe comodo dire sono malati non c'è colpa nessuno no no ragazzi sanissimi non erano neanche sproveduti avevano tutti un titolo di scuola superiore e cos'erano? erano vuoti non conoscevano neanche la categoria del bene e del male c'è qualcuno che però ci aiuta in questo ci dà un po' la bussola e riesce anche come ci come lei conclude nel suo libro a trasformare alcune parole a svuotare della bruttezza della sporcizia e a farle diventare belle questo qualcuno è Maria certo questo qualcuno è l'incontro con Gesù l'amore ce lo può insegnare soltanto colui che è amore Dio non è colui che ama è amore per questo ama e per questo soltanto Dio può essere il vero maestro dell'amore dove ha imparato l'amore madre Teresa incontrando il Signore dove ha imparato l'amore Carlo Acutis avvicinando il Signore l'ha incontrato e l'ha vissuto perché questo madre Teresa era felice perché questo Carlo Acutis era felice 16 anni ma spesi bene 16 anni che hanno dato a lui la giovinezza piena di gioia sprizzava gioia Carlo Acutis tutti lo dicono abbiamo bisogno di giovani così e di famiglia pensate due anni fa ero a Sacrofano c'era un convegno di famiglie 230 famiglie che rinnovavano il sì alla famiglia il sì al matrimonio 230 famiglie di che vuol dire 460 persone riempivano la chiesa lì a Sacrofano era uno spettacolo vedere questi genitori felici di ridire il sì con una schiera di figli e di nipoti una cosa incredibile quando ci sono famiglie così e il mondo cambia a proposito di convegni prima di salutarci ci fa piacere ricordare due appuntamenti eminenza uno il 14 novembre in aula Paolo VI con i rettori dei santuari di tutto il mondo è corretto in vista del giubileo evidentemente a me mi hanno chiesto di fare la relazione accogliere e congedare i pellegrini cioè come si devono accogliere e poi il 16 novembre in Santa Maria in Campitelli un convegno su madre Teresa e ricordiamo il suo libro aiuto nel mondo sta scomparendo l'amore eminenza grazie per essere stato con noi grazie eminenza grazie di cuore una buona giornata rimanga pure comodo ci spostiamo noi per salutare anche voi che ci state seguendo e darvi appuntamento a domani grazie avremo un altro credito ospite sì domani avremo Alessandro D'Avenia qui con noi a domani allora e adesso lì nel mio medico a domani grazie